arriva davvero il condono edilizio ma non si può chiamare così è proprio di oggi la notizia 4 aprile 2024 che il mit sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa pubblicato proprio nel sito ti lascio in descrizione tutte le fonti per approfondire quello di cui ti sto parlando a proposito lascia mi piace attiva tutte le notifiche e ti ricordo che domani sarò in live per rispondere alle domande ma chissà che non cambi e magari farò una live proprio su questo oppure parliamo anche di questo nella live dove rispondo alle domande dell'ultimo decreto 39 salvini ha twittato ma poi te lo leggo più avanti il mit sta preparando questo pacchetto di norme una bozza normativa che ha concordato con i vari dopo vari colloqui con i settori e la razza è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione dei loro delle loro posizioni e che non riescono spesso a ristrutturare o vendere la propria casa l'obiettivo è sanare le piccole difformità le irregolarità strutturali che secondo uno studio degli ingegneri riguarderà l'80 per cento del patrimonio immobiliare italiano quali opere ce lo dice proprio il mit e poi vedremo quali sarà il testo questa è una notizia più concreta che dividerà molto il settore perché c'è chi è pro c'è chi è contro ma questo poi farò una farò una considerazione alla fine le difformità di natura formale legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente le difformità edilizie interne tra virgolette riguardanti singole unità immobiliari a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche sono tutte parole che sono di difficile interpretazione soprattutto in una disciplina come quella dell'edilizia della ristrutturazione dei condoni in questo caso che non si può chiamare condoni che sono difficili cioè le parole devono essere supportate da qualcosa di più concreto che poi analizzeremo nel testo quando sarà a disposizione difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento questo è importante ma non sanabili oggi a causa della disciplina della doppia conforme della doppia conformità che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione per moltissimi interventi risalenti nel tempo e ancora per permettere cambi di destinazione d'uso degli immobili tra categorie omogenee allo stesso tempo deflazione deflazionare il lavoro degli uffici comunali spesso sommersi dalle richieste di sanatorie che non possono essere sanate perché non se non c'è la doppia conformità tutto bloccato lì quindi puntano probabilmente a quelle opere piccole alcune interne lievi che potevano essere realizzate all'epoca secondo la normativa per le quali probabilmente non è stato chiesto un titolo sono state fatte indiformità al titolo però potevano essere autorizzate ma non oggi alla luce della semplificazione dell'efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi quindi è un condono o non è un condono poi ci sono le varie dichiarazioni il vice ministro rixi dice il condono arriva per garantire non lo dice lui il condono non usa la parola però l'intervento normativo arriva per garantire risposte certe in tempi certi ai cittadini è uno degli obiettivi del pacchetto di norme per intervenire sulla casa voluto dal ministro salvini e in preparazione al ministero delle infrastrutture di trasporti il mit la semplificazione e l'efficienza amministrativa saranno le fondamenti su cui si basa la normativa qui c'è tanta propaganda un passo in avanti per il nostro paese eccetera lance o ance lance vabbè dichiara che non si tratta di un condono il provvedimento mira risolvere le piccole difformità di natura formale all'interno delle case difformitante 77 probabilmente ha qualche informazione in più che ancora noi non abbiamo potuto approfondire si tratta di cose assolutamente minimali interne agli alloggi e poi ci sono le polemiche il pd con maiorino dice il sì il ministro salvini nella gestione delle politiche sulla casa è assolutamente disastroso abbiamo bisogno di un piano nazionale cosa di un piano nazionale della casa a sostegno dell'affitto e del rilancio delle edilizie residenza pubblica eccetera eccetera giovani coprire ok anche qui molta utilizzo politico il ministro salvini su questo su questi terreni è assolutamente immobile in compenso rilancia un dannosissimo condono di cui proprio non si sentiva la necessità si scrive piano casa perché così lo chiamano ma si legge condono quindi ci sarà chi sarà entusiasta non vedeva allora che arrivasse un condono chi sarà assolutamente contro chi avrà questi giudizi con cognizione avrà maturato questi giudizi con cognizione di causa in modo oggettivo chi invece con un cieco pregiudizio ideologico come sempre succede chissà che scontri ci saranno adesso tra coloro che non sapranno nulla della materia e avranno le idee chiarissime pur non sapendo nulla è giusto avere delle idee maturarle legittimo tutto quanto è quando si entra nel nello specifico della materia e si vuole dare un giudizio nel merito poi giusto che si abbia una un proprio parere su cosa quale 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 strada prendere e quale non prendere dipenderà comunque da i contenuti concreti oggettivi ora prima di dare qualunque giudizio bisogna leggere almeno la bozza dipenderà da cosa andrà a sanare davvero perché il condono non si può usare come parola il condono è una parola tabù chiamiamolo piano casa nel 2024 comunque quello di quello si tratta sanare delle difformità sanare dei piccoli abusi come quanto lo vedremo solo con il testo è oggettivo che la situazione immobiliare italiana è disastrosa da questo punto di vista molti immobili per sciocchezze non possono essere ristrutturati non possono essere affittati non possono essere compravenduti serve un qualcosa che appiani la situazione la ripulisca da tutti questi anni di modifiche normative che si sono stratificate una sopra l'altra andando a complicare tantissimo burocraticamente l'oggetto casa purtroppo anche a causa dei vecchi condoni anche i vecchi condoni non è che hanno aiutato il condono da quella sensazione se arriva troppo spesso ne abbiamo avuti tre questo non lo chiamiamo condono sarebbe stato il quarto da quella sensazione di poter fare che tanto poi arriva qualcosa che sana la situazione però sulla casa diventa difficile perché poi quando vai a vendere affittare se c'è chi controlla come dovrebbe essere fatto se c'è qualche difformità quella casa non l'accetta cioè io che devo comprare se faccio delle verifiche e vedo che ci sono delle difformità o le sani o se non sono sanabili io non la compro perché non la voglio purtroppo anche colpa diciamo così prendi questa parola con le virgolette con le pinze dei proprietari di casa e di alcuni tecnici che con troppa facilità hanno avallato delle scelte talvolta discutibili Matteo Salvini ha twittato il mio ministero sta preparando un pacchetto di norme mio ministero siamo al servizio degli italiani però il mio ministero sta preparando un pacchetto per intervenire sulla casa così come chiesto anche dalle amministratori amministratori territoriali associazioni ed enti del settore incontrati questa mattina al mit si tratta di una serie di misure che mirano a regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali che interessano quasi l'ottanta per cento del patrimonio immobiliare italiano l'obiettivo è liberare gli uffici tecnici tutelare quei piccoli proprietari immobiliari ostaggi della burocrazia in attesa da decenni di regolarizzare le loro posizioni di poter ristrutturare o vendere le abitazioni altro che obblighi green qui andiamo nel altro che obblighi green e patrimoniali nascoste la casa è un patrimonio economico sociale culturale degli italiani da difendere a tutti i costi che c'entra il green non lo so però questo è quanto ci vediamo in live lascia mi piace attiva tutte le notifiche non te l'ho detto abbonati se vuoi accedere alle risposte durante la diretta diretta studio o nelle nei video esclusivi degli abbonati o ti abboni qui su youtube o ti abboni su patreon abbonando ti sosterrai il lavoro che faccio online grazie al prossimo video